Grazie di cuore per aver aderito al nostro invito per celebrare, lo diciamo senza pericolo di essere smentiti, una grande attrice e una grande donna. E come Regione Marche, come Fil Commission e Fondazione Marche Cultura abbiamo sentito il dovere di celebrare un personaggio che nel documentario che vedrete e che ha fatto Fabrizio Corallo scoprirete veramente che l'appellativo di grande attrice e grande donna è veramente calzante. Quindi grazie a tutti. Vorrei raccontare un piccolo, un piccolissimo aneddoto perché io e Corrado andavamo nella stessa scuola e c'è anche un altro compagno di scuola, Francesco Sabatucci. E quando Virnalisi e qui la semplicità e la donna, la mamma tra le mamme, quando accompagnava o veniva a prendere Corrado a scuola si formava sempre un capannello, sempre un po' intimidito. Eravamo tutti un po' un passo indietro perché c'era la grande attrice, però devo dire era talmente semplice, era veramente una mamma che portava il proprio figlio a scuola. Ed era proprio il segno di questa semplicità, di questa empatia che riusciva a trasferire a tutti quanti. Quindi quanto mai giusto definire questa grandissima attrice perché poi ha fatto delle interpretazioni che hanno fatto epoca nel cinema mondiale. Solo la palma d'oro che ha vinto a Canna fu un film straordinario e anche molto difficile da interpretare, costumi pesantissimi perché era una roba una faticata. Quindi veramente una grande donna e una grande mamma e devo dire che dava sempre una battuta carina a tutti quanti quelli che si avvicinavano ma temevano con la timidezza propria di un ragazzo e quindi veramente giusto chiamarla una grande donna. E' una grande donna che ha raccontato Fabrizio Corallo e vedrete tanti tratti e tanti passaggi del film, del documentario che confermano questa storia, questa meravigliosa storia di donna e di attrice. Grazie.